La diocesi di Sassari cambia e si aggiorna con una serie di nomine nelle parrocchie ma anche negli incarichi di Curia. Questa mattina l'arcivescovo Gianfranco Saba ha incontrato la stampa per illustrare il messaggio alle comunità della chiesa locale turrittana. Nomine strutturate per ambiti di competenza che investono presbiteri ma anche laici in un'ottica di collaborazione e integrazione. Tra le novità nelle parrocchie Don Massimiliano Sali, Samate d'Ecclesie, Monsignor Tonino Canu a San Giuseppe, Don Giovannino Conti al Cuore Immacolato, Don Antonio Simula al Sacro Cuore, Don Rodrigo Gazzacchi a San Giovanni, Padre Piero Pigozzi a San Domenico a Caniga e Don Gerola Moderosas a Sant'Agostino. Entro novembre sarà costituito il Consiglio Presbiteriale e il Consiglio Pastorale. Novità anche nel settimanale di Ocesano Libertà. Antonio Meloni è il nuovo direttore responsabile mentre Michele Spanu diventa redattore capo. Nella lettera ho espresso il progetto e i principi ispiratori del progetto. Non si tratta ancora di un progetto pastorale perché questo sarà elaborato nei prossimi anni insieme ai diversi soggetti ecclesiali. Quel che mi ha accompagnato è l'ascolto delle situazioni, l'osservazione, la preghiera e poi lo sviluppo di una pastorale che sia integrata, organica. E' la scelta di figure che collaborino nei vari settori pastorali creando delle mediazioni pastorali, creando una pastorale di comunione, quindi delle sinergie pastorali.